È il 1976, Luciano Bottoli ha 30 anni e trascorre interi giornate nel garage di casa costruendo impianti per la lavorazione delle materie plastiche. È qui che inizia a progettare e produrre le taglierine ribobinatrici, i tagliamandrini e le macchine complementari che costituiranno la gamma storica dei prodotti Bimec. Oggi Bimec è riconosciuta a livello mondiale per i suoi impianti di alta qualità ma è ancora un'impresa a conduzione familiare che porta avanti gli stessi valori di impegno e passione che Elena e Davide hanno assorbito in quel garage. Adesso sono loro alla guida dell'azienda che gestiscono mantenendo i valori di Luciano consolidati negli anni con uno sguardo rivolto al futuro. Bimec negli anni ha ampliato sempre più le sue capacità produttive. Oggi il suo headquarter e lo stabilimento produttivo di Vanzaghello vicino all'aeroporto di Milano Malpensa coprono una superficie di 5.000 metri quadri. L'obiettivo principale di nostro padre era quello di costruire delle taglierine performanti ma che portassero delle alle benefici ai clienti come la versatilità per l'utilizzo di più materiali, l'ergonomia e la semplicità di utilizzo. Proprio quest'ultimo punto era per lui il più importante, mettere al centro di tutto l'uomo l'operatore del macchinario che doveva poter svolgere il suo lavoro agilmente con una macchina semplice e intuitiva. La nostra progettazione è continuata su questa strada e siamo oggi in grado di fornire al mercato soluzioni complete e compatte che consentono l'utilizzo autonomo da parte di un unico operatore. Grazie allo stesso rapporto con i nostri clienti analizziamo continuamente le esigenze e le problematiche di mercato. Questo ci consente di innovare continuamente i nostri prodotti standard, di fornire soluzioni innovative o addirittura di fornire impianti totalmente customizzati, con l'obiettivo di rendere i nostri clienti sempre più efficienti e competitivi. Il reparto L&D è un'area molto importante in Limeo e qui che sviluppiamo e implementiamo tecnologie sempre più performanti sulle nostre taglierine. Per me e il mio team, una macchina performante ha il significato di affidabilità, semplicità d'utilizzo e innovazione. Lavoriamo a stretto contatto con l'RD meccanico per implementare software che automatizzano i processi in modo semplice e innovativo. Grazie al nostro sistema di assistenza remota possiamo eseguire con l'Audi e messi in servizio delle apparecchiature con estrema rapidità e precisione. Ascoltando il cliente riusciamo a cogliere le sue reali necessità produttive e lo accompagniamo nella scelta del servizio o impianto che meglio risponde ai propri bisogni, con l'obiettivo di superare le sue aspettative. La cura del dettaglio in ogni fase produttiva, dalla scelta dei fornitori, dei componenti, fino all'assemblaggio e collaudo, ci permette di produrre impianti robusti ed affidabili, che durano nel tempo, con costi di manutenzione ridotti. Siamo un'azienda centrata sulle persone perché è dalla competenza, determinazione e passione di ognuno di noi, che nasce il miglior risultato per voi. Siamo un'azienda centrata sulle persone per voi.